Edizione della notte del nostro telegiornale, bentrovati, un cordiale saluto a voi tutti dalla redazione di Telemolise, in apertura la pagina dedicata al Covid perché sono ancora tanti i casi in regione, complessivamente circa 7.000, 1.500 soltanto nella città di Campobasso, però c'è anche una buona notizia, la variante Omicron che è quella prevalente però conferma la bassissima percentuale di persone ricoverate in ospedale. Ascoltiamo Giovanni Di Tota. È sempre altissimo il numero dei casi a conferma dell'elevata contagiosità della variante Omicron, sono 562 i positivi segnalati dal bollettino dell'ASREM, ma è altrettanto evidente che all'elevato numero di contagi non corrisponde un consistente ricorso ai ricoveri, solo tre le persone per le quali è stato necessario arrivare in degenza in area medica del Cardarelli con un paziente dimesso. Sono 22 in totale le persone ricoverate all'ospedale di Campobasso per una percentuale riportata dalla Genas che conferma per il Molise il tasso di occupazione di posti letto, più basso in Italia per la terapia intensiva al 5% e con la Sardegna al 13% per malattie infettive. Un dato che con i 120 guariti riporta la lancetta su una situazione che resta sotto controllo. I numeri tuttavia rimangono impressionanti rispetto al passato. Nel dettaglio i positivi arrivano per la gran parte dai tamponi antigenici, 463 casi, rispetto ai 99 rilevati dai molecolari. Per i test effettuati dall'ospedale il tasso è di poco superiore all'8%, supera il 17% invece per i tamponi delle farmacie e dei laboratori privati. Resta a Campobasso quella con il numero più alto di positivi 129 dall'ultimo bollettino che fanno salire il numero totale dei contagi in città ad oltre 1.500, poi 104 a Termoli, 41 a Isernia, via via i comuni con numeri più bassi. Il numero dei casi attuali sfiora i 7.000. Riprenderanno lunedì 17 gennaio le attività didattiche in presenza in tutte le scuole di Campobasso. La conferma arriva dal sindaco Gravina che annuncia per i giorni 15 e 16 l'effettuazione di test antigenici su base volontaria e gratuita sugli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia. Una decisione assunta dall'amministrazione comunale per consentire un rientro in presenza in totale sicurezza. Ascoltiamo Anna Maria Di Matteo. Riprenderanno lunedì 17 gennaio le attività didattiche in presenza in tutte le scuole di Campobasso. La conferma arriva dal sindaco Gravina che annuncia una novità. L'effettuazione dei test antigenici modalità drive-in rivolti ai bambini delle scuole primarie e dell'infanzia su base volontaria e gratuita. Uno screening su quella fascia di popolazione scolastica dove la campagna vaccinale è iniziata da poco e che dunque è maggiormente esposta al rischio contagio da covid. L'attività di screening avrà il supporto e il coordinamento della Croce Rossa italiana e si svolgerà in una postazione allestita alla Cittadella dell'Economia in Contrada Selvapiana dove si trova anche il centro vaccinale, una decisione assunta dall'amministrazione comunale per consentire una ripresa delle attività didattiche in presenza più sicura. Per fornire un quadro il più possibile reale della situazione e del tracciamento del virus i testi vanno eseguiti necessariamente non più di 48 ore prima del rientro in classe. Per questo il calendario prevederà sabato 15 gennaio la mattina dalle 8.30 alle 13.30 i test antigenici per gli alunni delle scuole primarie dell'infanzia dell'Istituto Iovine del Convitto Nazionale Mario Pagano. Il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 toccherà le primarie dell'infanzia dell'Istituto Igino Petrone con i suoi vari plessi. Domenica 16 gennaio la mattina dalle 8.30 alle 13.30 i test saranno destinati alla popolazione scolastica delle primarie dell'infanzia degli istituti Montini e Colozza mentre il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 toccherà quelli della Dovidio con i suoi vari plessi. Nessun test invece è previsto per gli studenti di tutte le altre scuole della città. E restiamo al mondo della scuola. Miglioriamo il nostro approccio con la DAD e non limitiamo il tempo scuola esclusivamente a quello trascorso nelle aule. Il punto di vista espresso dal rettore del convitto nazionale Mario Pagano, Rossella Gianfagna, è oggetto di un articolo apparso sul sole 24 ore. Ascoltiamo. La scuola attraverso la DAD può diventare uno strumento utile per educare all'uso consapevole del digitale. E il punto di vista espresso dal rettore del convitto nazionale Mario Pagano, Rossella Gianfagna, è riportato in un articolo dal quotidiano economico il sole 24 ore. Miglioriamo il nostro approccio con la DAD e non limitiamo il tempo scuola esclusivamente a quello trascorso solo nelle aule, dice Gianfagna, ma indirizziamo i nostri sforzi verso una nuova metodologia che faccia leva su lezioni multidisciplinari. Il mio punto di vista è che ormai in questa situazione ci dobbiamo un poco, dico, organizzare, abituare e in qualche modo convivere purtroppo. La scuola è la prima che si è fermata, ma che è anche ripartita. Quindi noi siamo anche abituati a fare questo tipo di didattica un po' altalenante. Più che apertura e chiusura noi ormai siamo abituati a fare un tipo di didattica mista, perché facciamo anche didattica a distanza, didattica in classe. Abbiamo magari situazioni in cui il docente fa lezione in classe mentre ha pochi ragazzi e altri a distanza. Quindi abbiamo ormai acquisito in questi due anni veramente grande flessibilità e grande professionalità e diversi modi di fare scuola. Quindi quello che io dico è che la DAD chiaramente non è la scuola, ma è un modo per fare scuola. Miglioriamo il nostro approccio con la DAD, continua il rettore Gianfagna, sottolineando come la scuola sia stata la prima a chiudere, ma anche la prima a riaprire, evidenziando una tenuta del sistema che lascia ben sperare per il futuro. Noi veramente ce l'abbiamo messa tutta, come anche ragazzi, per cercare di colmare i vuoti o per raggiungere un po' tutti i ragazzi per fare scuola. Certo non è stato possibile vivere due anni, diciamo, chiaramente di normalità, questo non possiamo negarlo. Sicuramente qualche carenza o appunto anche delle situazioni da un punto di vista psicologico le ritroveremo. Però io credo che la scuola, così come ha risposto bene dal primo momento, si riprenderà e si rialzerà anche in questo. Dobbiamo stare un po' più attenti al discorso appunto di recuperare quelle che sono le competenze e potrebbe essere un modo anche, per esempio, a settembre quando si riparte, come facciamo già in genere, ma ancora di più, diciamo, perché recuperare quello, ripartire quindi dall'anno precedente per poi partire ad ottobre, io dico con il nuovo anno scolastico. Però questa è un'organizzazione che grazie all'autonomia un po' tutte le scuole hanno già. E sul fronte dei vaccini, Molise, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale pari all'81% contro una media italiana del 79, a cui aggiungere un ulteriore 4,3% solo con prima dose. In regione il tasso di copertura vaccinale con la terza dose è del 61%, dato in linea con la media nazionale, quanto emerge dal settimanale report della Fondazione Gimbe, in cui si legge inoltre che la popolazione tra 5 e 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 3% contro una media italiana del 2,4%. In Molise, infine, il 23% dei bambini tra 5 e 11 anni ha ricevuto solo la prima dose, una percentuale molto più alta rispetto a quella nazionale che è del 15,9%. E adesso cambiamo argomento. Domenica si vota per l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale di Isernia. Potranno votare solo consiglieri comunali dei 52 centri della provincia, ma il peso della loro scheda in termini di rappresentatività sarà diverso da comune a comune. Ci dice tutto Enzo Di Gaetano. Con un mese di ritardo rispetto alla scadenza del 18 dicembre si arriva finalmente alle elezioni provinciali di Isernia in programma domenica prossima 16 gennaio, data spostata di quattro settimane dopo la riammissione della lista di centrodestra autonomia e identità da parte del Consiglio di Stato. Si recheranno alle urne sindaci e consiglieri della provincia di Isernia che voteranno solo per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Due le liste presentate, uniti per la provincia per il centrosinistra e autonomia e identità per il centrodestra. Quest'ultima, come è noto, era stata esclusa perché presentata in ritardo rispetto all'orario fissato. Il primo ricorso al TAR era stato respinto, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale. Due, come è noto, le squadre in corsa, entrambe composte da consiglieri comunali dei centri della provincia. Per il centrosinistra i candidati sono Cristofaro Amicone di Poggio Sannita, Cristofaro Carrino di Frosolone, Anna Di Carlo di Sesto Campano, Claudio Falcione di Isernia, Saraferri di Isernia, Teodoro Carmine Iacovetti di Pizzone, Franco Marcovecchio di Agnone, Vincenzo Pacifico di Monteroduni, Angela Perpetua di Isernia e Angela Maria Siravo di Collio e Volturno. La lista del centrodestra è invece composta da Nicola Di Biase di Frosolone, Manolo Sacco di Pesco Lanciano, Raimondo Fabrizio di Isernia, Antonella Cernera di Venafro, Pietro Paolo di Perna di Isernia, Federica Cocozza di Filignano, Angelo Monaco di Longano, Vincenzo Scarano di Agnone, Stefania Colardo di Roccamandolfi, Angela Cicerone di Castelpetroso. A Campobasso il risultato è stato di parità, 5-5, consendendo così al centrodestra di mantenere la maggioranza con il voto determinante del presidente Roberti. Per Isernia stesso discorso, il centrodestra punta almeno al pareggio per consentire così anche ad Alfredo Ricci di mantenere la maggioranza con il suo voto, altrimenti ci sarà l'anatra zoppa. Hanno diritto al voto i consiglieri comunali dei 52 centri della provincia. Le schede più pesanti, trattandosi di voto comparato, saranno quelle dei consiglieri comunali di Isernia, Venafro, Agnone e Frosolone, due comuni governati dal centrosinistra e due dal centrodestra. Si preannuncia una battaglia all'ultimo voto. Il sindaco di San D'Agapito, Giuseppe Di Pilla, intanto, ha preannunciato di non votare in segno di protesta contro lo scarso valore, solo 0,25, del voto ponderato che esprimeranno i consiglieri del suo comune. Si inizia a votare alle 8 e si finisce alle 20, nell'aula del Consiglio provinciale, dove sarà allestito il seggio. I risultati intorno alle 22 di domenica sera. E Alfredo Ricci spera in una vittoria di misura, o almeno nel pareggio. Il giudice Fabio Papa ha bloccato l'adesione alla Convenzione Consip, quindi il passaggio del servizio di pulizia alla Dusman, decisa dal direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano, il 17 dicembre scorso. La ditta che si occupa delle pulizie in uno degli ospedali della regione si era rivolta con la procedura d'urgenza prevista dal codice di procedura civile, e la decisione ha aspetti innovativi, perché di solito in questi contenziosi interviene il Tribunale amministrativo e non quello ordinario. I carabinieri di Termoli hanno fermato a Campomarino due ragazzi a bordo di un'auto. Il loro è apparso da subito, un atteggiamento agitato e preoccupato. È scattata così la perquisizione. Uno dei due diciottenni aveva una bustina con 57 grammi di cocaina. Il giovane in possesso della droga è stato arrestato e posto ai domiciliari. Poi il giudice gli ha concesso l'obbligo di dimora. Il coetaneo invece è stato denunciato. Intesa raggiunta in conferenza Stato-Regioni sul riparto dei fondi, più di 8 miliardi per la sanità, circa 44 milioni e mezzo al Molise. Soddisfatto il governatore Toma. Sentiamo, Tonino Danese. Sanità, argomento centrale nella nostra regione, è una delle priorità su cui operare, elencate dal governatore Toma anche nella conferenza stampa di fine anno. Settore nell'occhio del ciclone con il Covid che ne ha accentuato le difficoltà. È stato lo stesso presidente della regione a rendere noto che la conferenza Stato-Regioni ha raggiunto l'intesa sulla ripartizione di oltre 6 miliardi e mezzo di euro del PNRR, circa un miliardo e mezzo del Piano Nazionale per gli investimenti complementari destinati alla sanità. Al Molise, ha spiegato Toma, andranno quasi 44 milioni e mezzo di euro. Noi siamo pronti, ha aggiunto. Dicendo di essere già al lavoro sui temi che rappresentano gli assi portanti del nuovo sistema sanitario, sui quali le regioni sono chiamate a intervenire utilizzando questi fondi disponibili. A brevissimo ha continuato il decreto ministeriale. Assi portanti che sono rappresentati dalle case di comunità, nove al momento, quelle su cui si sta lavorando, assistenza domiciliare e telemedicina, ospedali di comunità, modernamento tecnologico e digitale degli ospedali e ancora sicurezza e sostenibilità ospedaliera, ma anche analisi dati, vigilanza, dei livelli essenziali di assistenza, sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale. Stiamo lavorando su questi temi, ha ribadito il governatore, che saranno presenti nella prossima programmazione sanitaria 2022-2024. Toma ritiene che la loro attuazione, insieme ad altre azioni che si stanno predisponendo, possa migliorare il servizio sanitario regionale e adeguarlo alle aspettative dei molisani. Lutto in due comuni, uno molisano Venafro e uno campano Riardo, per la tragica morte di Giovanni Montaquila, il cacciatore deceduto ieri dopo essersi ferito con il suo stesso fucile. La procura ha fissato per venerdì mattina l'autopsia, mentre il lutto ha colpito due comunità, quella di Venafro, dove Montaquila lavorava, e quella di Riardo, dove viveva con la sua compagna, vicesindaco del paese, e i suoi due bambini. E si terranno domani alle 10 nella chiesa di San Matteo Apostolo a Montenero i funerali di Vittorio Quaglia, il 39enne deceduto in un incidente agricolo in un terreno di Mafalda. Domenica scorsa sarà lutto cittadino, proclamato dalla sindaca Simona Contucci. Un uomo di 50 anni di Sernia è stato trovato senza vita all'interno di una camera di un bed and breakfast di Termoli, con ogni probabilità è stato stroncato da un malore, non rispondeva ai familiari al telefono, che preoccupati hanno chiamato i gestori della struttura ricettiva, in cui l'uomo alloggiava quando la proprietaria del bed and breakfast ha aperto la camera, lo ha trovato senza vita. L'uomo era nella città adriatica per lavoro, sul posto I Carabinieri. Aumento di luce e gas, una famiglia di quattro persone spenderà quasi 1.500 euro in più all'anno. Arrabbiati e insofferenti per il costo della vita sempre più alto, i cittadini di Sernia. Vediamo l'inchiesta tra la gente realizzata da Valeria Migliore. Dopo l'aumento della benzina arriva anche il rincaro sulle bollette di luce e gas. Le famiglie sono in affanno, il costo della vita è sempre più alto e anche le imprese dovranno fare conti con nuovi oneri, come evidenziato anche da Massimiliano Scarabeo in un suo post su Facebook. L'aumento del costo dell'energia porterà nelle famiglie italiane un salasso non inferiore a 110 euro al mese in più. È stato infatti calcolato che per una famiglia di quattro persone le forniture costeranno tra i 1.300 e i 1.500 euro in più all'anno rispetto al 2021. Non va bene così, non va bene. O moriamo di freddo e non accendiamo gli scalamenti, o moriamo di infarto quando ci arriva la bolletta. Chi ha versato 30-35 anni di contributi prende 480 euro. Che democrazia, che giustizia c'è. È una grande, grande presa in giro, perché poi non le possiamo pagare. Noi andiamo a lavorare per 400 euro al mese, come facciamo a pagare queste bollette? Non penso niente, dobbiamo pagare e basta. Una famiglia cosa deve fare oggi per riuscire a sopravvivere anche in virtù di questi costi che aumentano? Deve stringere la cinghia, sinceramente, perché se no non ci si riesce proprio. È una ruberia, una ruberia perché noi per tanti anni e ancora continuiamo a pagare delle tasse, proprio delle vere e proprie tasse sono, per quanto riguarda il rinnovo delle energie alternative. Però tutto questo non c'è, non c'è perché nessuno indaga su queste cose. I settori maggiormente penalizzati saranno quelli ad alto consumo energetico, il comparto metallurgico, la grande distribuzione, il terziario, quello alberghiero e la ristorazione. Per i piccoli imprenditori dopo la batosta del Covid arriva anche questa. Insomma, una pessima notizia, quella che apre il 2022. Già la popolazione sta in difficoltà e poi se ci si aggiunge pure le bollette acqua, gas e luce è un problema non indifferente. Io penso che bisognerebbe anche creare dei movimenti di protesta, diciamo, giusto per farci sentire, ma anche perché ci vengono date delle spiegazioni giuste, diciamo. Comunque le spese sono tante, questo aumento penso che influisce un po' su tutti. È un dramma, è un dramma proprio. Nonostante le incertezze legate al futuro, i sindacati rendono noto che per i lavoratori degli stabilimenti Stellantis e Sevel hanno avuto un aumento nella busta paga. A Termoli si aspetta l'avvio della Gigafactory per capire quali saranno le ricadute occupazionali. Ascoltiamo Francesca Danversa. Aumento in busta paga sulla retribuzione base per i lavoratori e lavoratrici della Stellantis di Termoli e Sevel. e la rendono noto i sindacati Fim, Cisle e Wilm. Come previsto dal contratto collettivo specifico, ha precisato la Wilm, gli aumenti in busta paga su tutti gli istituti contrattuali è stato uno dei punti richiesti fortemente evoluti dalla Wilm nell'ultimo rinnovo contrattuale. Previsti aumenti pari al 2% ogni anno fino alla scadenza del contratto per un aumento di circa 8,24%, che equivalgono a un aumento medio-pensile di 144,50 euro. Dopo un anno difficile, caratterizzato dalle incertezze per lo stabilimento automobilistico, di Termoli, dalla fusione FC a Stellantis, la carenza di microchip e la cassa integrazione è una costante per i lavoratori. L'aumento in busta paga significa una boccata d'ossigeno. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare l'annuncio dell'inizio dei lavori per la Gigafactory a Termoli. Finisce in Parlamento la vicenda che ruota attorno alla nomina del Presidente del Consorzio Industriale di Termoli, Di Pardo. Il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, ha depositato un'interrogazione al Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e alla Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. L'ANAC afferma il deputato ha confermato il principio sacrosanto che mira ad evitare che gli incarichi degli enti pubblici siano attribuiti in occasione di un mandato politico e non in base a criteri di merito e professionalità. Nel caso del COSIB, peraltro, la nomina è andata anche contro la legge Severino. Una possibile correlazione tra i disturbi del sonno e l'Alzheimer. Questo è il risultato della ricerca portata avanti dal Neuromed di Pozzilli. Tutto sta nello stress a livello neuronale. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Valeria Migliore. Una possibile correlazione tra la cattiva qualità del sonno e l'Alzheimer. Questo il risultato della ricerca del Neuromed di Pozzilli sviluppata su modelli animali. Lo studio condotto dal Neuromed mostra che un sonno frammentato può effettivamente portare alterazioni del metabolismo cerebrale, alcune delle quali simili a quelle della malattia di Alzheimer. La chiave del fenomeno sarebbe da ricercare nell'instaurarsi di una condizione di stress neurologico. Pensiamo, dice Nicola D'Ascenso, professore del Neuromed, che il sonno disturbato abbia creato una situazione di stress che induce alterazioni simili a quelle di una patologia neurodegenerativa. Stiamo ora pianificando ulteriori ricerche. La domanda alla quale cercheremo di rispondere è se la condizione di stress protratta nel tempo possa far diventare definitive le alterazioni osservate, portando alla malattia vera e propria. Le implicazioni per la salute potrebbero essere rilevanti. Come sottolinea il ricercatore, non stiamo parlando di durata, del sonno, ma di qualità. Facciamo l'esempio di un messaggio che arriva sul cellulare, magari una notifica che non causerà un risveglio vero e proprio, ma comunque disturberà il sonno. Sappiamo che è molto diffusa, soprattutto nei giovani, l'abitudine di lasciare il cellulare acceso durante la notte con vari social che mandano continuamente messaggi. Storie di emigrazione al contrario. È il caso del dottor Francesco Ferri, fisioterapista della Nazionale di Basket Under 18, tornato in Molise per investire sul territorio. Ascoltiamo il servizio e l'intervista di Gianni Bruno. Dottor Francesco Ferri, fisioterapista della Nazionale di Basket Under 18, attualmente stai rivestendo questo ruolo e dopo sei anni, lontano dal Molise, sei tornato qui a Campobasso. Che esperienza è stata? Che esperienza è questa? Sono stato sei anni fuori e ho rivestito il ruolo di responsabile di un centro di fisioterapia ad Aprilia, provincia di Latina e diciamo che è un'esperienza che mi ha dato molto, mi ha fatto molto crescere e poi ho deciso quindi di intraprendere la strada di aprire uno studio di fisioterapia tutto mio. Perché comunque, avendo gestito uno studio molto grande, ho voluto comunque intraprendere questa strada. Uno studio di fisioterapia tutto tuo, che si trova praticamente nella zona industriale di Campobasso. che tipo di innovazioni hai cercato o stai cercando di apportare? Assolutamente, cioè la fisioterapia, secondo il mio punto di vista, si basa sulla terapia manuale e anche strumentale, assolutamente. Però non deve essere sicuramente una cosa standard, quindi andiamo a trattare il paziente, diciamo a scegliere un trattamento singolo per ogni paziente. Questa è la cosa principale. Quindi non è che dobbiamo sempre andare a fare la solita Tegar, la solita terapia manuale. Insomma, in base al paziente si sceglie la strada giusta da fare. Uno studio nuovo, tra l'altro mi dicevi che praticamente il primo trattamento è di ingresso, è gratuito. Sì, la prima valutazione è assolutamente gratuita, perché la visita si basa sia nel valutare il paziente, quindi per scegliere la strada giusta, e diciamo io faccio sia una valutazione gratuita e un primo trattamento per vedere poi come reagisce il paziente a quel trattamento. Contestualmente continui a svolgere il ruolo di fisioterapista della Nazionale Basket Under 18? Sì, come dicevi tu, insomma, dal 2010 che faccio parte di questa famiglia, che è la Federazione Italiana Palacanestro, e fino al 2019, fino a pre-Covid, insomma, sono stato il fisioterapista dell'Under 18 e ho avuto anche tante soddisfazioni. Abbiamo, siamo arrivati secondi ai mondiali Under 19, una medaglia di imbronzo agli europei, abbiamo vinto Mannheim, insomma, sono state tante soddisfazioni e spero di continuare quest'anno che riniziamo, insomma. Bene, termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento è per domani mattina con la prima edizione e con la nostra Rassegna Stampa. A voi tutti, buonanotte.